Live Social Stefano, è un piacere averti qui, ci fai una tua presentazione e poi ovviamente parliamo dell'argomento e quindi la valutazione immobiliare, poi se c'è tempo ci ricordi anche in questo periodo particolare se e come sta cambiando la tua attività. Stefano, vai pure, abbiamo 5 minuti. Allora, io sono geometra libero professionista da circa 40 anni e mi occupo di quasi tutto quello che riguarda la proprietà immobiliare, in particolare mi occupo del contenzioso, cioè delle liti e delle vertenze relative agli immobili e della loro stima, cioè della valutazione immobiliare. Conoscere il valore di un immobile per un cittadino è sicuramente importante perché se uno deve comprare o vendere un immobile è necessario sapere con una certa precisione qual è la differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo che si deve chiedere oppure si deve pagare per poter condurre al meglio la trattativa. Tu mi potresti chiedere, ma in caso di vendita non è l'agente immobiliare che di solito valuta l'immobile? Esatto, esatto. Ecco, io però ti rispondo molto seccamente ma molto sinceramente. Sì, in caso di vendita normalmente le valutazioni le fanno gli agenti immobiliari, però il fatto è che queste non sono stime imparziali indipendenti. Perché? Perché l'agente è ovviamente interessato alla vendita, guadagna solo se l'immobile si vende. E quindi molto più spesso di quello che si potrebbe immaginare è portato ad adattare il valore alle esigenze di chi deve vendere. Assolutamente. Però la stima serve non solo a chi deve vendere, serve anche a chi deve comprare. Assolutamente, certo, certo. Stefano, ho pochissimo tempo, come ti contattiamo? Ci lasci i tuoi contatti? Ma assolutamente. Io sono sul web, il mio sito professionale è www.battisti.net e su questo sito si possono trovare il mio numero di telefono, il mio indirizzo dello studio di Bologna e l'email. Assolutamente. Stefano, è stato un piacere averti avuto ospite in nostra compagnia. Io ti ringrazio e alla prossima occasione. Grazie a voi. Ciao Stefano, ciao ciao ciao.